Io sono Giovanni Piga, nascendo in Ugor, perché non mi conosco. Dopo cominciavo a scrivere da Parizzo, a scrivere innanzitutto in poesia, e tanto che saprosa, scrivendo le cose che ho inteso nella minoria, e non mi chiede a tenere la poesia, ma poter saprò i conti che contavano il babbo e il zio, tutta la gente del pastorio del deserto. E andando da innanzitutto abbiamo piccato esperienze, abbiamo spero di presentare il concorso literario, tant'este che per il suo primo romanzo che ho scritto, la scena era di suo temposo, questo è il primo castello di Zavai, in Sucale che, come ultimamente, in questi ultimi anni, mi hanno dato due premiosi, però hanno dato due conti solo, sull'anno differente. E questa poesia, proprio a Parizzo, premio su Mattesi, che vanno attraverso i soldi, che sono stati pubblicati, che partono da Sudo Biasanima, tanto da questa Bento di Scraruja, che è stata Sillogia che ha vinto il premio di Michelangelo Pira, e tanto queste frunze, che stessi io da Pro Rechente, pubblicate in Alghero da Zanema Press. E tutto sono stato, in una maniera riconnotto, sono le cose che bisogno, sono stati sconti nel suo libro di Vento e Iana, e questa poesia premiata in Parizzo, sul concorso di Sardinia e Perifora. Per quanto riguarda il suo manno in Sardinia, il mio premio ottieri, me lo andavo due volte, uno proprio qui nella poesia Sudo Biasanima, in 81, che poi applicato il titolo del suo libro, e uno, tre anni fa, che me lo andavo come De Rechente su Mattesi. e poi in tutti i altri, in Pasada, nei suoi primi di Mossa, di Paolico Mossa, dove è il premio a Rosa Rosa, il suo mio logo, di Giorgio Pina, in tutti i primi di Sardinia, di Ponareschi. ma questo, non è che Leonardo, uno dei primi che mi hanno dato, tutti i miei colleghi, per il suo valore, per il suo valore, che sta acquistando la poesia, e per gli altri, in questi ultimi anni, che sta camminando, a Passo l'Estro, in un cammino buono, e poi andando all'altro, che volando, accadendo davvero, a desumare, in scussoriasi universali. Questo, mi conviene a delunare. C'è un'importanza della tradizione, e credo che sia stata la base, proprio sul punto, dove si pone tutto il canto, la scrittura nostra, per questa poesia e prosa. In questa tradizione, siamo venuti, in questa tradizione, siamo sicchine, per i piccani però, andando alla nuova, maschilmente, che sa prosa, che sa letteratura. E credo che il gusto, non è per mai dimenticare, che è la tradizione, che è stata accompagnata sempre, in tutto il cammino, della letteratura, del romanzo, della quale sia forma, di scrittura, in prosa, in limba sarda. È un regalo importante, questa tradizione, che per i poeti, anche per i scrittori, in prosa, piccano i metodi, questa tradizione, per i larghi, come abbiamo detto, in Nantes, allargando, questa cosa, di oggi, questa cosa, spero che, che hanno bene, di casa. Però, questa tradizione, barra sempre, sul condimento, di cada conto, che in questa oggi, si sta scritto, la vedo sempre, in limba, e che si sta a scrivere, da oggi, ad Nantes, sicuramente, questa, è molto importante, in su, in questa coscienza nostra, in questa coscienza nostra, Nugolo, e da Barbagia. E' un concetto, che torna a questa tradizione, a questa costumazione, non sono morti ormai, non sono rimenticati, e Nugolo, che in tutto, che è una bestia di città, che è una cittadina, ma in questa realtà, è una vita, una vita mascherata di città, di città, che questa anima sua, è umile, è una vita, non è un'anima di città, aperta, a tutte, queste cose nuove, che possono arrivare, che sono arrivando. La scuola, non è una vita, dai secoli, di tutte le altre, però, questa opera sempre, in questo concetto, di coscienza di vita, che in realtà, è una vita, una vita, una vita, una vita, che in tutto, si costumisce a sua, che lo vivi, sia, che sostenere, sia, 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 la vita, per questo, 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 che ha barato, che ha, è una vita, una vita che, presa, appare, che nei tutti, oltre, i consumanti a sua, di eris, e dei sottotitoli, che, sia lo darato, Penso che è cambiato, è cambiato, non pago tutta questa situazione, ma non c'è mai, perché la sua tratta non è mai avvenuta il fatto di questa guerra, tutto l'avvenimento universale, mondiale, perché bisogna stare in questa guerra, però qualche cosa è cambiato, che ha cominciato proprio a posti della prima guerra, assicché muovere in parte le fasce che giochiano in Cambuzzo sui pastori nostri, sui gambalese, in parte l'ho cercato di lasciare la banda, a cominciare a vestire questa cugina, che chiamiamo noi di cugino, di gennore, questa civile e così detto, costarizzare una cosa che ha lasciato. Però questa cosa profonda, in questa letteratura, non è che ha lasciato una sarda in lingua che voglio narrare, che ha lasciato una tratta che è molto avvenuta, che sono scrittori, sono poeti, non è che non è che ha fatto vedere, che è un criterio di conoscenza, che non è che abbia una risonanza una risonanza a me da manna, in occhio, in questa guerra, che abbattava più di una rivida, assicchia, 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 che in questo tempo, in questa prima guerra, vi vediamo, assicchia, assicchia, che in questa guerra vi è in atto, e che vi è arrivato fino alla locale nostro. E così, se non vi vedo, a noi in questa maniera, a cominciare, se ne devi più a far vedere, certo. Andando da innanzi, come sui scrittori a Decommo, in questa prosa, appena in questa poesia, fa che nemmeno assimizzano, e vi tornano a alluminare, però canto, poter traere la sua, tratta questa fungura, questa guerra, questa spraga, se in buono, in malo, in buono, un pacco all'assà, se non esce qualche costumanza che ha cominciato a muovere, a bella bella, che in questa conoscenza di altre aziende e di altre un mondo, fuori da il suo mare nostro. Cambiato qualche cosa certamente, è nato, è nato, è un'adizia antica, è, tutto si accolte in dove non toccate, è andata bene, e cusse, poi ho trovato un augurio, che va qui, e va che va a Bortragaloia, in questo ambiente, un un pacco della classe mea, in Murgai, e che che si deve scegliere, che si deve scegliere, che si deve scegliere a Binelli, che si può pronunciare sui rapporti che vive Terelli, chi si aggiustisce. Ma questo rapporto, vedi, però, male posto, si aggiustisce a chi si aggiunge, che in realtà hanno vittuto tutti i denti esalti, pastori, massagli. E questi scegliere non ti chiedono, come ti chiedono, che il Stato non ne conoscevano, né per i nostri pastori. Scarpiniere, salezze, la giustizia, sempre uno inimico di lasciare a largue e, possibilmente, di non lo doviare mai. Oggi è differente. Oggi sono un modo da questa cosa, ma un rapporto più aperto, vedi, tra i cittadini, i pastori, che oggi andano e tornano, e un rapporto più aperto che si aggiustisse, sia anche la polizia, sia anche i carabinieri che girano in questa campagna. Questo è stato marcatto, da quella squadra famosa nostra, in Ugoro, in Totoro, la scuola in Ugoro, l'ispettore Zerra, che andava a Trescovilles, e con tanto di rispetto, che andavano pediatra sui pastori, che andavano a Trescovilles, e con questo rispetto, tornavano a Trescovilles, che un obiettivo è che il suo lavoro ha una banda, e gli altri finiscono il suo lavoro solo a Trescovilles. e poi, in sua coscienza, l'ha scritto, come te lo faccio. Però, da questo anno, va a cominciare a fare un rapporto più astrinto, più aperto, e più di un numero di collaborazioni, non di fare parte, di traicare una banda esattora, ma in suo senso di comprendere ma in un certo senso, questo è importante, e oggi è bello, questo mudamento della giustizia, dei suoi pastori erediti, a questo di oggi. In un certo senso, potete essere gai, questa poesia è partita dai neri, questa poesia, questa poesia orale, ma per i suoi scontri, non si può nemmeno dimenticare, i suoi scontri di bucchile, i suoi scontri che non scontavano a minore, sia gli indannati dei suoi bucchile, sia quando non spiegavano le sue cose, a non raccogliare, a non sottolineare le sue mani. Ma questa poesia, è più un cammino, più aperto, più lungo, sia in questa gara, la poeta, se vediamo della poesia orale, poesia improvvisata, certamente nella nostra barra di scritta, ma la prosa pura, a cominciare a fare il cammino, di sicuro. E oggi, abbiamo scritto la prosa, certo, quando si scrive, si tratta di argomenti in prosa, si vedono delle cose che bisogna, non solo delle idee, ma delle cose che possono essere scontri in casa, e che hanno avvenuto insuovente. Questo è un dato medio importante, che sta andando in questo senso, questa prosa, questo romanzo, che non si va a vedere come pezzi di conto dei bucchile, non si va a vedere pezzi che succedono in questa chiesina dell'uomo, in questa pratica dei vicinau, in questa scusoria, che non si va a vedere, che si va a vedere delle cose che succedono, del suo senso, globalizzando, è tanto, che è inmancabile, che è maggiore, insaprosa, che si va a vedere delle cose che succedono, e non, ma che succedono in cada scusoria del suo mondo.